La ex tronista di Uomini e Donne si sposa. La proposta di matrimonio che ha fatto scalpore. La notizia tanto attesa è finalmente arrivata. Giorgia Lucini, ex protagonista di Uomini e Donne, si sposa. Il suo compagno, padre dei loro due figli, ha fatto la fatidica proposta di matrimonio e ha condiviso le immagini del momento sui social. In una serie di foto che hanno fatto il giro della rete, possiamo vedere il solitario in primo piano davanti a una torta con la scritta mi vuoi sposare? Dalle espressioni di Giorgia, è evidente che la risposta è stata affermativa. L'annuncio ufficiale è stato fatto dal giocatore di basket sul suo profilo Instagram, con l'hashtag marito e moglie nella didascalia del post. Giorgia Lucini e Federico Loschi sono insieme dal 2016 e, nonostante qualche alti e bassi, sono diventati genitori di Riccardo nel 2019 e di Tommaso nel 2021. Da tempo i fan sospettavano che il matrimonio fosse nell'aria, soprattutto dopo che Giorgia aveva ricevuto il sacramento della cresima all'età di 30 anni nel maggio 2022. I fan avevano subito commentato su Instagram, chiedendo la data delle nozze e sottolineando che era il momento perfetto per Giorgia e Federico di unirsi in matrimonio in chiesa. Giorgia Lucini è una modella, brand ambassadore influencer, e non solo è stata una tronista ma anche una corteggiatrice a uomini e donne. Federico Loschi, invece, è un atleta di basket. Ora, finalmente, le nozze sono una realtà per la coppia. Gli utenti sui social media si sono congratulati con loro e hanno espresso la loro felicità per questo grande passo nella loro relazione. Non vediamo l'ora di scoprire la data delle nozze e di condividere la gioia di Giorgia e Federico in questo momento speciale delle loro vite.